Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Supercast 4 andiamo qui in Motorider traffic rider e questo è è un tutorial semplice adesso vi faccio vedere vi faccio vedere come funziona l'unico video di oggi allora questo è per accelerare questo a sinistra l'avevo a sinistra per accelerare come vedete dove c'è scritto KM dove c'è la freccia sapete lì si sta accelerando invece di qua si frena nel tasto destro si frena e sopra c'è il coso qui la trombetta e ci saranno missioni in cui potete anche comprare nuove moto frena wow questo a fare comunque no 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 questa cosa questa modalità non finisce perché non ti schianti quindi mi devo schiantare da qualche parte ecco mi sono schiantato vabbè non ho moneta però ti pagano però ti pagano ti pagano e ti pagano quindi in ogni missione ti pagano e qui il garage è dove si possono acquistare le moto per esempio questa non ce l'ho ancora anche questa qui questa è potente o questa sono tutte da sbloccare diciamo tutte da sbloccare c'è c'è prova a tempo ma non l'ho ancora sbloccato guida libera manco questa senza fine sera e questa è la carriera sono tutte le missioni qui qui è dove ti danno le missioni ti danno mille diciamo dollari è un una moneta è una moneta e in più ti danno i premi ogni giorno e dovete ritirarli c'è anche questo però impossibile missione 43 ci vuole una moto una moto velocissima quindi quindi se raga se lo volete provare provatelo non è così male però però mica è male ci sono tutti i 3d una grafica è una grafica bella questo gioco anche realistica non vedi questa moto qui è realistica proprio quindi raga commentate iscrivetevi e lasciate un mi piace e ciao raga alla prossima ciao ciao